Animali trovati durante la verdemmia, parte 2 Altro giro, altra corsa, anche oggi il pezzo forte ve lo lascio in fondo Iniziamo con questo grillo che, poverino, purtroppo era senza una zampa Poi abbiamo una bellissima mantide religiosa, un bel mix di fascino e terrore Guardate com'è, e era anche piuttosto grande, devo dire Poi abbiamo quella che da noi viene chiamata come forbicina o forbicista E di queste ce ne erano davvero tantissime, ne abbiamo trovate veramente tante Poi nel paniere mi è volata anche questa bellissima lucertolina Guardate poveretta com'è spaventata Naturalmente poi l'abbiamo liberata e per fortuna che è volata nel paniere e non nel cassone E infine abbiamo mamma ragno con i suoi piccoli Che si trovano, come vedete, tutti ammucchiati sull'addome E sì, anche i ragni in alcuni casi hanno cure parentali Seguimi per altri video del genere